Buonasera, buongiorno, buonasera. Ciao, buona domenica. Io direi oggi di iniziare facendo intanto tanti auguri al capo, alla capa, della nostra redazione che è il suo compleanno e quindi ti facciamo tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a me, tanti auguri a te. Giuliani Berserre dovevamo parlare così. Allora, grazie di essere con noi, tra l'altro oltre che essere però il 5 e che è domani il 6. Quindi? Domani arriva la Befana, la facciamo arrivare oggi o la facciamo arrivare domani? E allora partiamo con Alessia Dal Cielo che ci fa ascoltare questa bella canzone militando e mi ha militato per un po' di tempo con l'orchestra di Franco Bagutti e adesso è una sua produzione. Produzione Vivi sempre nel mio cuore Sciocca stupida passione Prendi sempre il primo giorno come al nostro primo incontro Sei paura, sei coraggio Quello splendido miraggio Che dipinge la mia vita sempre senza una cornice Sciocca stupida passione Sciocca stupida passione Viaggio sempre nel tuo mare Riesco sempre a navigare Fra tempeste e bianche vele Sciocca stupida passione Mi rimani sempre amica Anche quando sembri spenta Tu sei sempre insieme a me Insieme a me Sempre pronta è la scialuppa Questi scogli fan paura Sempre dura l'avventura Questa stupida passione La mia mente che non vuole Lei potrebbe farmi male Devo cedere però A questa stupida passione Sciocca stupida passione Viaggio sempre nel tuo mare Riesco sempre a navigare Fra tempeste e bianche vele Sciocca stupida passione Mi rimani sempre amica Anche quando sembri spenta Tu sei sempre insieme a me Insieme a me La mia mente che non vuole Lei potrebbe farmi male Devo cedere però A questa stupida passione Sciocca stupida passione Sciocca stupida passione Mi rimani sempre amica Anche quando sembri spenta Tu sei sempre insieme a me 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 Allora questa cosa l'abbiamo fatta per la prima volta qualche giorno fa E questa nostra idea Questa nuova rubrica Una rubrica secondo me A grande richiesta Perché ci avete chiesto voi Una rubrica che abbiamo chiamato Revival VIP Andiamo a cercare delle canzoni La nostra edizione è stata straordinaria Perché è andata a cercare delle cose Veramente che non vedevamo Né noi E probabilmente Neanche voi Che non vedevamo Da tanto tempo Questa rubrica Che è Revival VIP Vediamo un po' Sì ed oggi Ammiriamo un video originale Del 1961 Tenetevi forte La grande Mina Il cielo in una stanza Il cielo in una stanza È un brano composto da Gino Paoli Come tutti sapete Pubblicato per la prima volta Nell'interpretazione di Mina Nel 45 giri Il cielo in una stanza E la notte È distribuito nel giugno del 60 Curiosità Il testo descrive l'incontro Con una prostituta Pensate È avvenuto in un bordello di Genova La cosa è riconoscibile Dal famoso soffitto viola Esatto Però Però Molti non lo sanno Ma effettivamente La cosa è proprio così È così Quindi 1961 È proprio lei La Mina nazionale Revival VIP E vai Volare Oh Cantare Cantare Oh Oh Quando sei qui con me Questa stanza Io 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 Cielo Sopra Noi Che restiamo qui Abbandonare Come se Non ci fosse più Niente più Niente al mondo Suona Niente al mondo Che restiamo qui Salute La sua danza armonica mi sembra un organo di fibra Per te e per me, su me di me non si guarda il cielo Per te e per me c'è Una bella canzone, vi facciamo ascoltare adesso un grande sassofonista che è Maurizio Guzzinati, leader di questa bella orchestra storica Da tanto tempo con la sua cantante che è Enrica Pepe che ci fa ascoltare L'amore va Ascoltiamolo e magari balliamolo tutti insieme Lascia allontanare questo Dio con i suoi ricordi al vento Non voltarti mai Mettiti alle spalle tutto quanto Fino a che di nuovo il sole ti riscalderà E l'amore va E l'amore va Non ci sono più lacrime e rimpianti Era giusto lasciarci così E' già terminato il nostro tempo Non c'è niente che ci tenga qui Va, riscrivi il tuo destino senza me Io non ci sarò Va, in cerca di un amore vero che ti illuminerà Lascia allontanare questo Dio con i suoi ricordi al vento Non voltarti mai Non voltarti mai Mettiti alle spalle tutto quanto Fino a che di nuovo il sole ti riscalderà E l'amore va Lascia allontanare questo Dio con i suoi ricordi al vento Non voltarti mai Mettiti alle spalle tutto quanto Fino a che di nuovo il sole ti riscalderà E l'amore va E l'amore va E l'amore va Andiamo? Mirko! Andiamo? Andiamo a vedere che combina Andiamo Ma vuoi recuperarli? Io li lascio là No, no, no Io non recupero nessuno No, no, no Io non rifaccio l'Amnesty International Io li lascio là proprio Mirko Malatesti Il compare di Cristiano Chesi Insomma, vabbè Ciao Luciano Oggi sono a Siena in compagnia di un grandissimo ragazzo Che si chiama? Lorenzo Lorenzo Ciao Lorenzo Cosa ci fai qui a Siena? Niente, sono in vacanza Anche lui? Tutti in vacanza? Oh, l'unici siamo a giro per il lavoro Siamo io e Cristiano Bellissimo E cosa fai nella vita? Studio Studi? Cosa studi? Faccio liceo scientifico Liceo scientifico? Eh, una bella cosa E cosa diventerà? Uno scienziato pazzo? Quando esci da lì? Come funziona? Pensavo di andare a fisioterapia Fisioterapia? Oh, io guarda C'ho certi dolori O me li rammentare Sarebbe meglio Perché guarda qui Comunque senti Ti vorrei fare Un proverbio Che ne pensi? Perfetto Sentiamo Come te la cavi? Te la cavi bene? Sì, sì Allora, se io ti dico Chi va con lo zoppo? In Palazzo Picale No E fa tardi Chi va con lo zoppo Arriva tardi Perché Santo ci metterti Anni posti con lui Dio bene o Dio giusto Luciano? È una banda di nulla Cosa dire È in compagnia Del nostro Futuro fisioterapista Che comunque anche a te Il lavoro non ti dovrebbe mancare Perché In Italia siamo tutti rotti Tutti dolorosi Ma come speriamo Auguri male alla gente Bellissima questa cosa E che non si fa per lavoro Luciano Cosa dire Da Siena è tutto Un saluto da Mirko Malatesti Cristiano Hensi E il nostro futuro fisioterapista Lorenzo Ciao Luciano Una bella canzone Che ho scritto insieme All'amico Gianni Coletti Dedicata a tutte le donne Ha avuto e continua Ad avere un bel successo Perché durante le nostre serate Ce la chiedono spesso E devo dire Che anche tante orchestre La eseguono Allora per voi Le donne Amano Le donne che ti aspettano Di notte E accettano Qualsiasi tua Anogia Sono quelle che In silenzio Sanno piangere Per non lasciare Che tutto Vada via Le donne che Ti offrono L'amore Ai bordi Delle strade Di città Sono donne A cui la vita Ha rubato Gli affetti E la propria Vignità Le donne A mano E sanno sempre Cosa fare Piccole isole Nel mare Sotto le stelle Il cielo blu Le donne Sognano Il vero amore Non l'avventura Le donne Che non ha Paura Di guardare In faccia La realtà Le donne Sognano Il vero amore Non l'avventura Le donne Che non ha Paura Di guardare In faccia La realtà A una donna Innamorata Basta poco Per un momento Di felicità Un fiore Un bacio Una carezza Due parole È solo questo Che Le servirà Le donne Sognano Le donne Amano Le donne Le donne Amano Luciano Nelli Andiamo a intervistare L'artista di oggi Parte la sigla Intervista con l'artista Cari amici di Ritornelli Mi sento una regina Nella cucina Di Villa Rita Accanto al mio chef Preferito Moreno Iacoponi Titolare Pluristellato chef Dalla Francia In Italia Con furore Ormai da molti anni Adesso a deliziare Il nostro palato A deliziarlo A tal punto Che io Dalle tue cucine Non mi sposto più Io Moreno Ho mangiato Recentemente Da te Te l'ho richiesta Una galantina Di pollo In salsa Di tartufo Ce la fai Per le nostre Telespectatrici Ho visto Che hai già preparato Tutto E apposta Lo chiedo Partiamo Ricetta Allora Petto di pollo Circa 300 grammi Macinato Però prima del petto di pollo Chiedere al proprio macellaio Di disossare un pollo Così In questo modo In modo tale D'avere Un involucro All'interno del quale Mettere tutto il farcito Che adesso prepariamo Perfetto Poi La salsiccia Ah sì Lei è già condita Dunque non avrà bisogno Né di sale Né di pepe Né di aio Il parmigiano grattato Un bel po' Lui darà la sapidità Che manca Al petto di pollo Poi con le proprie manine Ben pulite Impastiamo Bisogna mescolare I tre ingredienti Una volta mescolati per bene Prendiamo il nostro pollo Che è stato disossato Eccolo qua E lo farciamo Prendiamo l'impasto E lo mettiamo all'interno Così Ok Una volta messo l'impasto Gli si dà la forma È importantissimo Ecco qua Per ottenere Un risultato Questo Guardate amiche Questo è già il pollo farcito Questo è già pronto Pronto a passare in forno Dobbiamo però usare Un olio che sia Di grande qualità Un olio veramente Di È il mio preferito Ecco Non ho parole Perché da dove viene Questo olio Leggo qui Fattoria Belloni Ma chi è sta Fattoria Belloni Sono io Beh la mia famiglia Insomma si produciamo olio Da un po' di anni Meraviglioso E Moreno per gli amici Quelli proprio di elite Lo usa Esatto È meraviglioso Ed anche lo uso Come regalo di Natale Ai miei più Adesso tutti lo vorranno Per cui ti sei fatto Anche una bella Reclame È meraviglioso Allora Cospargiamo dell'olio O Belloni o no Comunque una bella teglia No no Quello Belloni Per avere un ottimo risultato Questo va usato Solo quello Ecco per la galantina Solo quello Mettiamo il nostro pollo Sì Così com'è In forno Quindi Abbiamo già farcito Tu lo mettiamo in forno Noi facciamolo Moreno Anche se poi so Che tu hai già preparato Insomma La galantina Arrosto per noi Ventilato 130 gradi Statico 150 Lui deve cuocere Per un'ora 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 Quindi signore all'ascolto Preparatevi per tempo Una volta fatto Lo tiriamo fuori Lui durante la cottura Ha tirato fuori I suoi succhi di cottura Produrrà questo Famoso intingolino Come si direbbe In toscano Dove tutti faranno La scarpetta Prima o poi Insomma Perché a fine A fine degustazione Ci sono molti I fili tartufi Principalmente Il bianco d'alba E lui va Usato solo crudo Poi ci sono Il tartufo nero Uncinato Il tartufo estivo Che possono essere cotti Come in questo caso Abbiamo usato L'uncinato Noi abbiamo usato Noi abbiamo usato L'uncinato Prendiamo la mandolina E lo facciamo a fette Lo mettiamo all'interno Della salsa In questo modo E sopra Il pollo Che io ho già preparato In modo tale Da avere Ecco qua L'aroma L'aroma Il profumo Si sprigione Del tartufo Ecco Moreno E intanto sta Riscaldandosi Questo Intingolo Buonissimo Una volta Bello caldo Prendiamo Un cucchiaio Sì Abbiamo qui Una salsa Così chiamata Bruna Sì Darà una lucidità Darà una presentazione Al piatto Che è molto importante E soprattutto Darà un ulteriore Sapore Alle fette Condoverà Galantina La galantina Di Villarita È speciale E questo è lo chef Moreno Jacoponi Per voi Grazie Moreno Per questa Prelibata ricetta Hai visto Quante le cornie Hai visto Il nostro Moreno Che cosa ci ha fatto vedere Poi le mangiavamo Anche Magiavamo Noi tra l'altro Ci troviamo L'hotel Villarita Dove ci sta Veramente alla grande E dove Moreno Sta preparando Delle cose Delle cose Prelibate Come sempre Sì E allora Adesso abbiamo Una new entry Torniamo alla musica Dimentichiamo per un attimo La cucina Abbiamo una new entry E un certo Andrea Guerrini Che tratta d'amore Swing l'amore Non vediamo l'ora Di ascoltarla Una bella tromba Un bell'arrangiamento Con quest'orchestra T Quest'orchestra Un po' tipica Gezzeggiante Una cosa molto grande Siamo contenti Andrea Che si chiama swing L'amore Swing Ciao Andrea Benvenuto Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.